Ma vengo pure io! Amore, ti sei dimenticato l'ultima volta? Ma scusa, ma il giocatore la può passare la palla al portiere? Ma che cos'è il fuori gioco? Ma con me stanno esultando? Perché applaudono? Che è successo? Ma com'è ha tirato fuori il cartellino giallo? Ma il calcio d'angolo sarebbe che tira dall'angolo? Ma i minuti di recupero, che so? Ma quello che gesticola quella tuta nera, chi è? Ma gli avversari dove sono? Ma come stanno? Hanno segnato, po'! Ah no, è l'altra squadra... Non so che ci fa... Ma i completini chi glieli dà? Ma soprattutto chi glieli lava? Ma com'è il campo è fatto con l'erba? Ma se piove si bagna! Che vuol di fallo? Fallo? Fallo che? Ma perché non ci vengono solo io lì? Ma quando esce un giocatore dove va? Hai finito? Non avrei altre, ma fammo che ho finito! Allora facciamo una cosa, vai, mettimi alla prova! Qualsiasi domanda! Capirai, vincofagile, chi è il capitano? Ciro Immobile, nato a Torre Annunziata il 20 febbraio del 1990, 189 gol in Serie A! Vai, vai, fammene un'altra! Con chi giochiamo, la prossima? Col Sassuola, le 12.30 al Mavè Stadium di Reggio Emilia! Che succede? Campionato 96-97! Juventus, capocannoniere, Pippo Inzaghi, Retrocess, Verona, Cagliari, Perugia e Reggiano! Ma come l'hai fatto? Amore, a differenza di uomini, noi donne cresciamo, evolviamo! Perché noi no? Fammi vedere, fammi partire la lavatrice, dai! La la la... Ah, mi raccomando, è quella dei bianchi, eh! Quella dei bianchi? Ho paura, uomo! Ah, stu, babba! Ma non dici dei bianchi, no!